E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Come avete visto sicuramente dal titolo e dalla miniatura, oggi vi presento un nuovissimo computer portatile da gaming. Stiamo parlando del modello Asus ROG Strix Scar 17. La prima particolarità di questo computer è che il display, ovvero il monitor, gira a una frequenza di 300Hz. Inoltre all'interno troviamo una CPU i7 di 8 core, decima generazione, e 32 GB di RAM di DR4 che gira a una frequenza di 3200 MHz. Quindi una frequenza molto molto elevata. Una cosa molto importante da dire ragazzi è proprio la scheda video. Perché questo computer dispone di una 2070 Super RTX. E sapete benissimo quanto le schede RTX oggi come oggi siano davvero fondamentali per rendere il gioco nettamente più fluido. Un'altra cosa importante da specificare è che proprio grazie alle schede video RTX non solo si possono utilizzare per avere un gioco nettamente più fluido. Ma grazie ai driver studio si ha la possibilità di utilizzare dei programmi più comuni come per esempio per video editing o magari di grafica. E utilizzare appunto questi programmi con delle performance decisamente più elevate. Inoltre all'interno dispone di un raffreddamento con metallo liquido che proprio permette al computer di raffreddarsi il più possibile durante le sessioni di gaming. E infine la meno importante ma per noi gamer sicuramente importante la tastiera ovviamente è tutta retroilluminata. Quindi RGB. E sappiamo benissimo per noi gamers quanto sia importante avere l'RGB nei nostri computer e non nelle nostre periferiche di tutti i giorni. Torrando a parlare ragazzi dell'importanza degli Hertz o comunque degli FPS all'interno del gioco. Tramite una campagna di Nvidia che si chiama FrameWing Games vi posso appunto spiegare più nel dettaglio qual è l'importanza degli Hertz o degli FPS. E vi permetterà anche Nvidia di andare a scegliere la componentistica più adeguata per avere delle prestazioni decisamente più elevate. E vi lascerò ovviamente qui sotto in descrizione tutti quanti i link per avere maggiori informazioni. La prima a dire è appunto per quanto riguarda gli Hertz. Gli Hertz sono molto fondamentali perché ti permettono di avere una frequenza di aggiornamento nettamente più fluida e a impatto e decisamente diversa. Come vi ho detto prima abbiamo le differenze tra 60, 144 Hertz, 240 Hertz e in questo caso abbiamo 300 Hertz. Quindi più gli Hertz saranno elevati più avremo una frequenza più istantanea all'interno del gioco. Qui ovviamente come potete vedere dai grafici ci sono appunto le varie differenze e inoltre ovviamente il tutto deve essere alimentato comunque da un FPS molto elevato. Perché ovviamente è importante avere un Hertz alto ma è importante ovviamente anche avere dei FPS che bilanciano il tutto. Quindi gli FPS più sono elevati più il gioco sarà fluido e stabile. Quindi sì ragazzi queste sono le caratteristiche più importanti da specificare e comunque da avere all'interno di un nostro computer per avere un gioco più fluido. Vi lascio ovviamente come potete il link qui sotto in descrizione per avere maggiori informazioni sia per quanto riguarda questo fantastico portatile di Asus Rogue e sia per quanto riguarda la campagna di NVIDIA per avere comunque maggiori informazioni più nel dettaglio. Detto ciò ragazzi adesso vi lascio al video che è ovviamente un gameplay di Fortnite. Godetevelo e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Buona visione. Avera. 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 E però le mie copie che mi coprano ce l'ho Vieni qua pesto di mie Ok C'è un player sicuro raga C'era volevo dire scusatemi Non puoi scappare Scordati che puoi scappare La risposta è no Quindi a volte mi fa pieno per questo YOLO Ah questa è la Dani P-dunks Beh full mazzo direi Non male Voy a amafarla Ok Ok Grazie a tutti. Volevo farli impanicare, ragazzi. Secondo me sta bestemmiando sto qua. Povero bibbo. Non si vede nada. Eccolo. È bello. Vuoi assaggiare il pasticcio? Eccolo che mi rompe il c***o. 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 Vabbè, ne va. Ok. Dove va questo tizio? È bello. Vuoi assaggiare? Augioro? Questo è buonissimo. Voi immaginate se fossi stato, per esempio, a Milano. L'avrei rimpiazzato e ammazzato con un colpo. Pesce no. Ok. Quanti razzi ha? 8 razzi. Vabbè, butto gli shieldoni, ragazzi. C***o me ne frega. Sono mini. Proprio iolo. C***o me ne frega. Tu pensi veramente di farmi cadere? Non ho capito. Se tu pensi veramente... Se mi fai cadere. Mi c***o. Questa cosa, ragazzi, ho proprio un mito a tutti gli effetti, eh? C***o me ne frega. Però l'ho predittato, cioè... L'ho predittato di razzo, raga. Quindi, uno qui e uno di là. Va bene. Holy shit, dude. L'ho predittato di razzo, raga. 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 L'ho predittato di razzo. Volevi mio c***o Ma io ho preso culeto di tua c***o Pesso di mie Se pingo 60 sono contenta Ah se io pingo 61 sono contenta Vedela così Se pingo 61 sono più che contenta Cheetah